E' importante che si riapra la delegazione della Guardia Costiera qui a Scalea. Scalea è il centro di un vasto comprensorio dell'altotirreno cosentino. Sicuramente questo rappresenta un presidio di legalità e un rafforzamento per la sicurezza. Non una novità ma un graditissimo ritorno atteso dalla cittadinanza per 17 lunghi anni. Tanta, tantissima gente, rappresentanti istituzionali, questa mattina nella sala consigliare del Comune di Scalea per l'inaugurazione della nuova sede della Guardia Costiera, vero e proprio presidio di legalità collocato al primo piano dello stabile che fino a pochi anni fa era sede del Tribunale. Rientriamo e ritorniamo a Scalea in una struttura che non è quella definitiva ma si sta lavorando per avere una sede definitiva. Ma l'importante, e la cosa più importante, il segnale più importante è quello di essere ritornati su Scalea. Soddisfatto anche il sindaco della città, Genaro Licursi, che ha portato a casa un risultato importante. Ho iniziato questo percorso sognando che a Scalea potesse ritornare un ufficio della Capitazione di Porto da appena mi sono insediato e a dire il vero ho incominciato a fare questo ragionamento con Stefania Covello allora era deputato, che mi ha dato veramente una mano e un input per andare avanti in questa storia e io la ringrazio anche se lei stamattina doveva essere qui ma non è potuto essere presente. Francesca Lagatta per la Cineus 24 Grazie a tutti